Ehi! Cosa ne pensate delle mie nuove armi? Sei ancora Petra? Dacci ancora un secondo e ti apriremo la strada verso la prigione. Ricevuto! Come ci apriremo, sacco! Continua così con queste bellezze. Porta chiusa. Qualche dritta per me? Attivo il sistema di sicurezza. Tutto ok, Petra? Sì, sto accedendo ai livelli inferiori. Verifico solo un paio di cose, poi possiamo andare a festeggiare. A me basta che paghi tu da bere. A me basta che paghi tu da bere. A me basta che paghi tu da bere. No, 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 no! Cade, è sparito! Non si tratta di una rivolta, ma di un'evasione! La Camera d'Equilibrio sul Fonte Zero è l'unico modo di uscire da qui! Riusciranno a scappare! Non si tratta di un'evasione! Non si tratta di un'evasione! Non si tratta di un'evasione! Kate! Kate! Petra, che sta succedendo? Rispondi, Cade Ehi, rieccoti Siamo precipitati di almeno 20 piani Non riesco a contattare né Cade né Petra